Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Lascaris, ma soprattutto benvenuti a questo convegno, convegno La Rivoluzione è Open. Io vi porto innanzitutto il saluto del Presidente del Consiglio regionale, l'On. Valerio Cattaneo, che per impegni precedentemente assunti non potrà essere con noi questa mattina. Io saluto innanzitutto gli autorevoli convenuti, oltre che voi cari ospiti, saluto il moderatore di questo importante momento per noi, il Dottor Luca De Biase, 924 sole 24 ore, grazie per aver accettato questo invito. E saluto tutti gli altri convenuti, Paolo Ciucharelli, il Professor Juan Carlos De Martin, Federico Morando, Maurizio Napolitano, Guido Remo, anzi Guido Romeo chiedo scusa, Giampaolo Colletti, Laura Pippinato e ringrazio, un ringraziamento particolare al nostro direttore, il Dottor Domenico Tomatis. Da oltre due anni la comunicazione istituzionale del Consiglio regionale ha compiuto una svolta che, unitamente a un ampio restyling dei tradizionali strumenti di comunicazione, l'ha portata a confrontarsi e a relazionarsi con i più diffusi social media, utilizzati non solo in ambito istituzionale e politico ma anche da una fascia crescente di cittadini. Le iniziative che, pur in una continua evoluzione, hanno seguito una precisa logica individuata dal piano di comunicazione che punta su apertura, trasparenza, partecipazione, riconoscibilità e identificazione. L'Assemblea piemontese si è confrontata tra i primi a livello nazionale con il complesso tema del governo aperto, muovendosi sostanzialmente su due binari. Da un lato dotandosi di normative che hanno favorito tecnologie abilitanti come il wifi libero e gli open data, dall'altro rivedendo la propria comunicazione nell'ottica di un rinnovato patto di fiducia con i cittadini. Il focus sull'attività legislativa in quanto core business del Consiglio è stato costante attraverso iniziative di particolare impegno. In particolare i live tweet delle sedute d'aula con gli hashtag OpenCR Piemonte ha permesso di instaurare un'interazione molto significativa con una fascia forse ancora ristretta di utenti, ma coinvolta e interessata al dibattito e alle sue risultanze. Questa esperienza ha collocato il nostro Consiglio tra i casi di eccellenza a livello nazionale e ha indotto ad assumere ancor più il ruolo di stimolo quasi pionieristico nell'utilizzo dei social media nella pubblica amministrazione. Il tema è stato sviluppato nell'incontro svoltosi un anno fa quando numerose realtà della pubblica amministrazione si sono confrontate con l'utilizzo principalmente di Twitter nella comunicazione istituzionale. Così come è stato un altro passaggio importante quello di attivare una social tv, un canale video in grado di presentare in modo interattivo la realtà e l'attività del Consiglio. L'idea di attivare periodicamente dei momenti di confronto per far convergere e discutere fra loro alcune tra le migliori esperienze italiane e tracciare nuove prospettive nel campo crea un effetto di diffusione del best practice, oltre a offrire agli addetti ai lavori la possibilità di riflettere sul lavoro svolto su ciò che resta da fare. Così auspico possa venire anche per questo incontro in cui focalizziamo la nostra attenzione sugli Open Data, ambito in cui il Piemonte si presenta nuovamente all'avanguardia nel panorama nazionale. Crediamo che le dimostrazioni di usi concreti degli Open Data possono essere uno stimolo per la pubblica amministrazione affinché proseguano e si intensifichino nel rilascio delle informazioni che possiedono in formato Open. La Regione è già andata molto avanti su questa strada. Il Consiglio ha rilasciato forse per primo in Italia l'intero dataset della legislazione regionale dal 1970 fino ad oggi. L'intera banca dati Arianna è ora Open. Interpretiamo quest'azione come l'adesione concreta e non meramente burocratica, come purtroppo sembrano suggerire certe norme approvate sull'onda dell'emozione in questi ultimi mesi, alla cultura della assoluta trasparenza. Se più trasparenza dovesse significare solo un aggravio delle procedure, dei compiti di chi opera nella pubblica amministrazione, un aggravio burocratico senza logica, senza criterio, credo che servirebbe, questo servirebbe certamente ben poco ai cittadini, anzi sarebbe certamente un danno. Con gli Open Data invece trasparenza significa soprattutto coinvolgere in modo paritario tutti gli stakeholder dai centri di ricerca universitaria ai creativi, ai designer, per dare ai cittadini un'informazione sostanziale sulle realtà sociali e sull'attività della pubblica amministrazione. Sono certo che dal confronto odierno emergeranno temi, soluzioni per un ulteriore slancio, per un contributo affinché la pubblica amministrazione possa costituire e confermare un rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini, senza il quale le scelte politiche rischiano di essere comunque sempre inadeguate ed inefficaci. Ai qualificati relatori e a coloro che hanno accolto il nostro invito voglio augurare un buon lavoro. Grazie di cuore.